Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andrainke e benvenuti questa volta davvero nell'episodio finale di Bakugan Campione di Vestroia Dopo aver vinto tutti quanti i tornei ci aspetta la finalissima al centro città E c'è un bel po' di gente a quanto pare, quindi è una cosa piuttosto grossa Anche perché i Bakugan diciamo che sono apparsi relativamente da poco nel nostro mondo Quindi insomma vediamo di far scorrere questa fila e di scriverci al torneo Ciao vedo che partecipa al torneo So se mi parli ancora inizieremo il torneo Cos'è un GDR per caso? Assicurati di avere tutto ciò che ti serve prima di tornare da me Non è la vera vita, è un GDR E quel... Paul Ma è una femmina Ah sì anche prima C'era una che si chiamava Ursula ma poi quando è entrata in combattimento era un maschio di nome Gordon O una cosa del genere Va bene, parlo ancora con te Buona fortuna, direttamente mi butta dentro a calci proprio Infatti la scena si è oscurata per non farmi vedere la violenza Però dopo il bastardo dello scorso episodio mi aspetto di tutto Ma guardalo quanto carico e senza microfono poi Signore e signori, ragazzi e ragazze Benvenuti alla finale di Bakugan di San Barbaro Da Zedeku Beach al centro Questa serie di tornei ha attraversato tutta la nostra meravigliosa città Si calma sempre di più Da centinaia di partecipanti siamo arrivati a pochi combattenti scelti Ok, sei un attimo rinvigorito Ci saranno tre round per ridurre il numero di partecipanti a due Ora preparatevi a tifare per i vostri preferiti E ad assistere al miglior combattimento che la città abbia mai visto Mamma mia Ah, 2-3-2 Quindi questo è il mio girone Nell'altro girone ci sarà sicuramente Preston Che vincerà tutti quanti gli incontri Va bene Mi pare giusto Ad aprire le danze Grey su uno nuovo combattente di Central Park Che spiederà Link Ragazzi, ovviamente questi combattimenti Non ve li faccio vedere Se non proprio il minimo indispensabile Perché Preston è quello che ci interessa È lui che ci farà concludere quindi La storia che io ho deciso di chiamare post-game Perché fa più figo E signori, vinti anche questi sette round del torneo C'è la gran finale contro Preston È ovvio Non può essere altrimenti Quindi Dai Link ha vinto e passa alla finale Ce l'hai fatta Ti resta solo l'incontro finale Ecco che arriva l'altro finalista Preston Paras Sembra quasi Una specie di Di Come dire Di nome scherzo Poi arriva tra l'altro già incavolato Aspettavo questo momento Da quando mi ha infasterito il cantiere Ho un'arma segreta questa volta Ho un Bakugan che nessuno ha mai visto E il suo potere è inimmaginabile Ah, devo parlarci? Anche perché non posso andarmene Comunque Uh, posso andare qua dietro magari? Ah, solo qui, va bene Preston È finito, dai Ci siamo Non mi batterai di nuovo Uh, è quello Chissà che Che tribù è Tribù Sole Luce Non lo so Perché la tribù House È la tribù di luce Ok È questo No, già cambia Anche Preston Ha l'abilità stordente Quindi Bisogna stare attenti Perché Oddio, attenti Beh, se ci scontriamo Andiamo KO entrambi Quindi alla fine Ecco, purtroppo Mi ha fregato il Bakukor E nessuno l'ha preso Si è dissolto nell'aere Quindi aspettiamo di rialzarci Vortice di fuoco Che comunque sia Lo indebolisce Ogni secondo Gli leva Qualche dottino Ah, ma Già sta male Axillataur Vabbè, come lo chiamo Lo chiamo Ma non importa Cambio nome di continuo E prendilo I controlli Ragazzi fanno schifo Porca miseria Ok, ci è crepato Di bruciatura Meglio così Almeno non ho sprecato Un attacco Allora Questo mi sa Che è un Darkus Però A meno che A meno che Sentite che idea pazza È un Bakugan Che può ricevere Qualsiasi tipo di Ah Qualsiasi tipo di Energia Di abilità Bakugan Quindi Può fare tutto Il che Non sarebbe Strano Visto che è un Bakugan Particolare E penso che lo finiamo qui Insomma È potente Sì Ma non Non troppo Diamond Leonidas Ovviamente sì È più forte Bello però Non ha molta salute Comunque Debolino L'ultimo è debole Al fuoco Quindi Beh Preston Mi sa che è finita Per te Raffica di spade E Ah ok Prosciughe energia No Va bene Mi ruba tutta quanta L'energia Ok Ok Questo qui mi caricherà Oh Aspetta Spade Spade Carico Perfetto Allora mi sono Non me l'ha rubata Boh è strano Ad ogni modo No Non basta Ma Eh C'è quasi Praticamente C'è arrivato Ok Cambiamo anche noi No Eccolo Ce l'ho fatta Ce l'ho Ah no No Non ce l'ho fatta A fare Frame Perfect Per puro caso Comunque sia Sarebbe È successo Nel caso Non mi colpiva Ho cambiato Proprio nel momento In cui lui Ha fatto l'attacco Quindi Non si è annullato Come è successo a me Ma È semplicemente Andato avanti Mi ha colpito dopo Va bene Va bene Non importa Comunque sia Finalissima contro Preston Super facile Super veloce Strano Molto strano Però va bene Io La prendo Quel Bakugan particolare Leonidas Non era granché E così Link Sconfinge Preston Paras in un sorprendente Incontro finale Aggiudicandosi Il titolo di Attenzione Ah ok no Pensavo tipo C'è un colpo di scena Esce un Bakugan Da sottoterra No Troppa fatica Miglior Campione Combattente Bakugan Di San Barbaras Tutto quanto lì Tipo Monty Burns Giocando con le mani Ce l'hai fatta Link No Noi ce l'abbiamo fatta Non avrei mai immaginato Di arrivare fin qui Senza di te E il resto dei Bakugan Arrivano anche i miei amici Lo sapevo Sapevo che avresti vinto Il torneo Link Nessun combattente Di San Barbaras È migliore di te Non riesco a crederci Anzi in realtà sì Sono così fiera di te Link Non mi hai colpito Non sono felice E non mi farei cambiare idea Sono stufo Di averti sempre tra i piedi E di lasciarti vincere sempre Ho chiuso con i Bakugan Non voglio vedere più Nessun combattimento Finché non sarò io a vincere Mio padre si arrabbierà molto con me Ha distrutto tutto Ma se tu sei debole Per essere pari Ho deciso che distruggerò Qualcosa anch'io Leonidas Distruggi lo stadio No Non penso che lo farò No No non credo che lo farò Cosa? Non mi piace il modo in cui parli a me o agli altri umani Non sono un oggetto che puoi usare come vuoi Link Ammiro l'amicizia che hai con i tuoi Bakugan Sembrano prosperare grazie al tuo entusiasmo E ora ci prendiamo Leonidas Non mi lamento Bravo Link May I please join your team? Link posso unirmi al tuo team? Certo che puoi Leonidas Siamo felici di averti con noi No non puoi farlo Siamo stati noi a tirarti fuori da quello stupido buco nel terreno Mi appartieni I Bakugan non sono oggetti da usare o animali da compagnia Anche se alcuni adulti potrebbero pensare diversamente I Bakugan sono nostri amici E dovremmo ritenerci fortunati ad essere scelti Non dovremmo controllarli Link ha ragione Ero in ibernazione su Vestronia E non ero ancora pronto per essere risvegliato Anche se l'energia di Vestronia mi pervade Calmati Anche se l'energia di Vestronia mi pervade ancora Non mi hai trasmesso lo spirito giusto per vincere Ecco perché abbiamo perso questo incontro O Torneo poi ho letto male Attenzione Wow attenzione Non ho mai sentito un terremoto così forte Da dove proviene? Viene l'neva dalla città vecchia Avvicino alla centrale della Parasol Scommetto che c'è un'altra trivella della Parasol Potrebbe essere questo che sta succedendo alla centrale elettrica Credo di sapere dov'è l'epicentro Potrebbe essere il luogo in cui mi hanno trovato Vi faccio strada seguitemi Aurelus Aurelus Leonidas Wow bello Pyrus Nilius Ah tutti quanti i Bakugan di Preston Potevi portarti un Dragonoid Darkus No maledetto Dato che gli incontri l'ho tutti quanti tagliati Visto che non c'era niente di esaltante Continuiamo e finiamolo qui no? Cioè voglio dire Vediamo quello che sta succedendo Ci sarà un mega Bakugan finale Ok Quindi devo andare a città vecchia In effetti me l'aspettavo che ci mancasse qualcosa Perché c'è un posto ancora che non abbiamo visitato A città vecchia È questo qui ragazzi Sicuro sicuro E infatti Il luogo è questo Ora ricordo Come facciamo a oltrepassare questo cancello? Mi sa che dovremo trovare un modo per intrufolarci dentro Intrufolarvi? Non ce n'è bisogno Per quanto non volessi distruggere quello delizioso stadio Lo stesso non si può dire di questo edificio Osserva Va bene Dal nulla Bravo comunque eh Beh allora ok È stato fantastico Suppongo sia un modo di affrontare le cose Questo è l'edificio in cui mi hanno strappato dalla mia casa Le entrate poco più avanti in quella direzione Ma qui cosa c'è? Oh finalmente posso vedere cos'era Ventus, Cycloid Finalmente ce l'ho fatta a prendere quell'oggetto luccicoso Allora Aspetta No no aspetta aspetta Ma ancora lui? Ma basta Buster cosa ci fai qui dentro? Va bene Ovviamente lui Ok ovviamente lui si va a nascondere Prendi Buster Prima che venga catturato dalle guardie Ma al diavolo Si faccia catturare Ok cerco di non farmi vedere dalle guardie Per quanto possibile Qui c'è qualcosa Ventus, Nilius Ok Dunque devo andare lì Io cerco di trovare la strada più safe possibile In modo da non dover affrontare le guardie Che tanto affrontare le guardie non mi serve a niente Qui ci devo parlare per forza a quanto pare Hai causato tu l'esplosione? Voglio vedere cosa mi dice ora che l'ho abbattuto Se ci fa passare Perché è tutto bloccato comunque sia Anche volendo Tanto non riuscirò a sobrare questi container Ne sei sicuro Tu scappi Ma poi Ma poi Si è pure illuminato E c'è Vabbè Sì Bello Chissà se queste cru si muovono Ma come? Allora Vediamo un po' di entrare Uh c'è la guardia lì Come si gira? Da questa parte Ok Però Co Cosa? Ma no Ma dai Ma non può avermi visto Ma Proprio guarda eh Sneakiness zero Ero quasi sicuro che ci saremmo dovuti scontrare con una guardia Beh se Leonardo è a seconda immagino vada bene No No Non va bene Tra l'altro ora lo metto in squadra Tra l'altro È Maximus ed è a livello 35 Ah Ma lui prende Le mosse Del Bakugan sul quale lo metti Quindi non è proprio Ok ho capito Non aspettatevi Grandi cose Wow Slalom Ma guarda questo Oh vediamo un po' sto Leonidas Va che combina Ok Vabbè gli attacchi sono quelli dell'altro Bakugan Ah ma col calcio Ok Ok Vabbè se non altro sarà di livello Allora Ecco la guardia Scappa Scappa Se mi vede Uh Uh Allora fermi Cos'è Non devo andare qui Ah Mamma mia che paura Ah ma c'è la via Ah bene devo passare qui per forza Ok ok Ah ah Io aspetto che quella guardia se ne vada Ah Devo fermarti così Ma perché continuate Cioè Non ce l'hanno fatta prima Per cosa ti fa pensare Che ce la possa fare tu Sono il campione del torneo mondiale di San Barbaras No Non ti viene in mente che forse E dico forse Sono un pochino forte Cioè ho battuto Preston eh Che era una pippa comunque Quindi conta poco Però Un minimo di riconoscimento Dice sai Non è bene mettersi contro uno Che ha fatto il sederino a tutti Hm Poi non so voi come la pensate ma Questa guardia doveva essere per forza L'ultimo stretch Prima di arrivare Dal nostro amichetto No Troppo è un modo di entrare nell'edificio nascosto Sì ma l'abbiamo visto prima qua Non potevamo farlo fin dall'inizio Ci faceva tanto schifo Ma tipo se io volessi andare più in là Che mai Perché qui ragazzi c'è un altro Punto da fare Aha Ok Ci fa vedere tutto quanto è la scena Sì Solo dei B-Coin Schippabilissimi ma ok Beh a questo punto ragazzi Non ci rimane altro che Preston Dov'è? Aha Eccolo qui Va bene Preston Non ci fermeremo finché la Parasol Non rinuncerà al suo piano Preparati a perdere di nuovo No non sono qui per combattere Voglio aiutarti Cosa mi prendi in giro? No Per quanto ho di perdere contro di te Capisco come sia successo Volevo essere il migliore E non mi interessavano i miei Bakugan O i loro sentimenti Per me non erano nient'altro che dei giocattoli Li consideravo banali pedini su una scacchiera Mentre loro volevano solo essere miei amici Wow Preston E' nobile da parte tua ammetterlo Per me è difficile ammetterlo Perché mi sono reso conto Che mio padre stava facendo la stessa cosa con me Era felice solo quando gli davo ciò che voleva Non si è nemmeno presentato alla finale Mi stavo usando perché ero bravo a combattere E rendermene conto mi fa stare malissimo Ora capisco che facevo sentire Leonidas allo stesso modo Leonidas mi dispiace per come ti ho trattato Anche se non merito di combattere con te Spero che tu possa accettare le mie scuse Forse un giorno potremo essere amici Possiamo diventare amici anche oggi Preston Dovresti essere orgoglioso di aver riconosciuto gli errori che hai commesso Sì bene sento uno stupido Voglio aiutarti a entrare là dentro Per scusarmi di come mi sono comportato al torneo Accetto le scuse ma il mio piano è combattere contro tuo padre e fermarlo Se riusciremo a oltrepassare quella porta E' ciò che spero Non voglio essere più parte di un ciclo di manipolazioni Il successo non vale nulla se non si hanno veri amici Per favore ferma il piano di mio padre e salve i nostri Bakugan Per favore ferma il piano di mio padre e salve i nostri Bakugan Non voglio che spariscano Vi farò oltrepassare quella porta Ma dovrete spegnere il quadro di comando Il meccanismo di abbassamento e la trivella Buona fortuna Faremo del nostro meglio Vai Così solo questo Cioè questo è solamente un corridoio Ok Ah che postaccio Fammi vedere Ma qui si può comunque andare Mi sa che dopo bisogna scendere anche sotto No Componente mancante Ok Qui non c'è nulla Qui non ci si Tu? Abbiamo un intruso allarme rosso No Se non è necessario combattere Ah però mi sa che loro mi danno i componenti vero? Ma perché deve essere tutto così complicato in questo gioco? Attenzione ho abbattuto una guardia e posso andare da questa parte Quindi qua sicuramente Ma dai Ma sul serio? E si procede Ma qui c'è un lavoratore Che sicuramente Avrà qualcosa da ridire Cosa ci fa? E qui Trivellatore E il suo nome All'anagrafe si chiama Trivellatore Oh A questo punto Manca solo lui Che ha per forza Un pezzo Una componente mancante O comunque Posso disattivare il quadro alle sue spalle Speriamo Bene Attenzione Hai fatto esplodere la porta Quale porta? Signori Leonidas Diamond Beh Diciamo che Maximus è più in tinta col suo colore Ma anche Diamond fa la sua figura Prendiamo l'ascensore E in questo modo sta salvando Meglio così Almeno siamo sicuri che non perdiamo i progressi fatti finora Eh voglio andare qui Voglio proprio cascare Male Ah ma Qui no Ok Come è fatto sto posto? Piattaforma attiva Ma guarda che roba E dobbiamo combattere contro tutti questi un'altra volta? Ma basta Ma è una perdita di tempo combattere Non diventerò più bravo di così Quindi a questo punto dovremmo aver recuperato il componente mancante Yes Bene Finalmente ci siamo ragazzi L'ultima sfida ovvero il capo Ci aspetta L'abbiamo già sconfitto una volta nello scorso episodio Ma stavolta sarà diverso? Voglio dire Perché dovrebbe essere più forte Scendo in fondo al buco gigante Per affrontare Richard Paras una volta per tutte Bene Secondo me comunque sia c'erano un po' troppi incontri dentro a questo Posto Che bello però Vabbè sì io volevo un attimino esplorare Siamo a Vestronia comunque Cosa ancora tu? Chi ti ha fatto entrare? È stato Preston? Sei una vera spina nel fianco Non capisci quanto valgano queste creature? Sono un dono per tutti noi Esatto Sono un dono Quindi perché le stai sfruttando? Per quanto ne sai Vestronia potrebbe anche rubarci l'energia Sappiamo entrambi che non è vero Vestronia e Bakugan hanno bisogno del nostro aiuto E noi abbiamo la possibilità di imparare da loro Da loro amicizia è molto più importante dei soldi Vestronia e Bakugan hanno una relazione simbiotica E noi abbiamo una relazione simbiotica con i Bakugan Solo perché non possiamo vedere l'energia o quantificarne il valore Non significa che sia meno importante Basta con queste sciocchezze Non lascerò che dei ragazzini mi mettono i bastoni tra le ruote Preparati per la battaglia decisiva Ah, me lo dice pure Pronti? Beh, ha dei Bakugan standard Richard Paras Tra l'altro ha un Pyrus Il che mi dà un gran vantaggio Ma ha anche uno svantaggio Però, se riuscissi ad attivare tutto il potere necessario Chissà che abilità ha lui Non mi ricordo se l'ha anche la prima Ah, ok Siamo entrambi stupidi Bene Aspettiamo Sì Lancia meteorica Baby Un bel 5.800 di danno Oh yes Shottato Uvj, baby Come mi piace Mi piace quando shottiamo i nemici Di prepotenza proprio, eh? Ah, mi sembrava una cosa di energia Un Bakugor Oh no, un po' di ritardo Ci vorrà più tempo per caricare i suoi attacchi Va bene, non importa Ah, possiamo cambiare Va Preferisco fare attacco di squadra Perché se no i Darkus, ragazzi Senza attacchi di squadra Non ve li levate mai dai piedi Hanno tantissimi punti salute E sono davvero tosti Tra l'altro non è detto che con l'attacco di squadra Si riesca a shottare Però stavolta sì C'è andata molto di lusso Mi dispiace un po' vincere con l'attacco di squadra Ma ragazzi Ho fatto talmente tante lotte Sto registrando da più di un'ora e mezza E guardate Neanche è bastato Neanche è bastato Quindi Rendetevi conto proprio di Di quanta pazienza ci vuole Per finire i Darkus Mamma mia Ah, perché c'è l'armatura Comunque sì, ricevo Ho registrato un'ora e mezza Un'ora e quaranta a questo punto Ma in realtà Ho registrato un'altra ora E altre due ore ho registrato veramente Praticamente ho fatto quattro ore di registrazione Solo di Bakugan oggi Però almeno l'ho finito Certo, se contiamo anche che c'è stato il torneo Che non ho registrato Sono un bel cinque ore Perfetto Comunque sia Questa era la battaglia finale Ce l'abbiamo fatta ragazzi È fatta Finita Caput Torna qui Pappamolle Questi Bakugan Dovevano essere potentissimi Eravamo vicini alla convergenza dei mondi Sì, ma alla stessa maniera Anche i miei si potenziano Vestrania non è un'altra risorsa Di questo pianeta Da sfruttare È viva Più si tormenta un essere vivente E meno vorrà collaborare Grazie a mia Bakugan ho imparato tanto E ho raggiunto molti traguardi È questa la vera energia che possono offrirci I maestri combattenti Io, suo figlio Tutti noi abbiamo capito il vero valore Dei nostri amici La motivazione La motivazione L'ispirazione E le opportunità che ci hanno dato Sono le risorse più preziose Che potessimo ricevere Cosa vuoi saperne di come si gestisce un'azienda Sei troppo giovane Per risponderti con la terra Come il nostro pianeta Ti consiglio di spostarti Non vi sopporto Vabbè si Mo ci danno cose Che non ci serviranno mai Per risponderti con la terra Sì è comparsa una scritta Che non ho neanche fatto in tempo a leggere Appena che l'ho vista Esplora Raccogli e combatti Ah quindi è finito Scusami Neanche Neanche i crediti Cioè neanche i crediti finali Sto gioco Io Ok mi sono divertito abbastanza A giocarlo ma Insomma Neanche i crediti finali Va bene Io direi ragazzi Che questo video Può terminare qui Allora Bakugan Termina E Boh Un ending Un po' Anticlimatica Ma Va bene Che dire In mezzo al verde Io ragazzi vi saluto E niente Il gioco Beh Sì è divertente Ti fa passare quella decina di ore Spensierato Anche più di dieci ore Visto che ci ho messo Più di un'ora a registrare Ogni episodio Questo quasi due Più quello che non ho registrato Ovvero mentre esploravo Raccoglievo altre cose E i tornei Che sono durati Anche due ore Rotti Ciascuno Wow Io come sempre Vi ringrazio per aver seguito il video Shoutout Dalla youtube Startgame Che ha l'abbonamento Start E come sempre In descrizione Il link per Instagram E se ancora Non siete iscritti al canale Iscrivetevi a noi Ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye